Hai un'idea imprenditoriale ma vuoi essere più sicuro sulle possibilità di riuscita del tuo business? Sei un imprenditore con un'impresa avviata da non più di tre anni? O hai già avviato una tua impresa in miri ad espanderti anche traverso l'acquisizione di nuove idee? Allora Erasmus per giovani imprenditori può fare al caso tuo. È un programma di mobilità finanziata dall'Unione Europea che dal 2009 consente agli aspiranti e nuovi imprenditori senza limiti di età di accedere a nuove esperienze e competenze. Grazie al programma i nuovi imprenditori o aspiranti tali di qualsiasi settore produttivo possono trascorrere un periodo da uno a sei mesi presso aziende già affermate in un altro paese dell'Unione Europea. Il soggiorno può anche essere suddiviso in intervalli di una settimana. L'esperienza deve concludersi tuttavia entro un massimo di 12 mesi. Come partecipare? Basta registrarsi sul portale, selezionare il centro di contatto locale e scegliendo il paese di riferimento, in questo caso l'Italia. Vediamo che ci sono due centri prossimi all'Abruzzo, la società Aster di Bologna e la Confindustria di Ancona. E infine, insieme al centro di contatto locale, valutare la validità della propria idea di impresa e definire il programma di finanziamento. Erasmus per giovani imprenditori dà quindi l'opportunità di lavorare direttamente sul campo con imprenditori già affermati, di acquisire nuove esperienze, di consolidare le proprie competenze specifiche, di studiare un nuovo mercato europeo. Ma per capire meglio di cosa si tratta, guardiamo insieme la storia di chi ha partecipato con successo al programma. E se vuoi maggiori informazioni puoi scrivere anche a ineuropa.tv6.it. Arrivederci. Maria e Panagiotta Vlaciu sono sorelle. La loro impresa, Fereikos Helix, ha sede a Corinto. Lui è Simone, giovane agronomo dell'Università di Catania in Sicilia. Gli accomuna il medesimo settore di attività, l'elicicoltura, ovvero l'allevamento di lumache. Alla Fereikos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche, pratiche, perché no poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo perché no il prodotto con dei presidi e delle certificazioni in quanto prodotto biologico. Fondata nel 2007, Fereikos Helix si è specializzata nell'assistenza alla creazione di aziende di allevamento di lumache a ciclo biologico. Simone vi soggiornerà e collaborerà per un periodo di sei mesi. Simeone è italiano e questo è molto importante per noi, perché anche io e i miei amici, ma anche i miei amici, ma anche tutti i lavoratori in Italia parlano in Italia. L'agricoltura biologica è in piena espansione in Europa e il fatturato di Fereikos non smette di aumentare. L'allevamento di lumache è estensivo in un quadro naturale. Interprete e traduttrice di formazione, Panagiotta Vlaciu non pensava di diventare un'imprenditrice, ma un giorno, in modo del tutto imprevisto, ha scoperto il suo spirito imprenditoriale. Oggi offre consulenza, competenza e assistenza allo sviluppo agli agricoltori attratti da questa attività. Ha preso parte alla creazione di oltre 140 aziende di elicicoltura. Nel corso del suo tirocinio Simone potrà affinare i suoi modelli di analisi dei terreni e sviluppare modelli di promozione che gli serviranno quando creerà la propria azienda. Sicuramente è importante Erasmus Impresa perché questa collaborazione porterà ad una nuova apertura commerciale tra quella che sarà la mia azienda e la Fereicos, come una ditta commerciale molto affermata, e soprattutto penso sbocchi commerciali e promozionali per i prodotti siciliani all'estero, in tutta la comunità. In questo programma l'impresa ospite ha tutto da guadagnare. Le conoscenze di Simone in materia di regolamentazione e di marketing nel settore biologico sono un punto di forza non trascurabile. Per beneficiare del programma Erasmus per giovani imprenditori occorre mostrare una forte motivazione e al riguardo il progetto d'impresa di Simone era molto convincente. Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica, comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale, cioè diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Grazie a questo programma Simone ha potuto partecipare a pieno titolo alle attività di Fereicos Elix, fra cui riunioni di formazione organizzate per futuri elicicoltori. Grazie a tutti. Il nuovo imprenditore europeo comporta una certa responsabilità, ma questo programma è un'opportunità concreta per rendere le PMI più competitive a livello internazionale. Consiglio a tutti i giovani imprenditori, perché è un'esperienza unica e fa crescere sia scientificamente sia nell'animo.